Allora Antonio Madonna, portiere di Dental Tech, squadra che ha vinto in finale il primo trofeo Labaita, un giudizio su questa finale, insomma sicuramente la vittoria non fa una grinza. No, è stata una partita abbastanza equilibrata, anche se subito siamo andati in vantaggio, abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine del primo tempo e poi l'abbiamo confermato anche nella ripresa, subendo solamente, penso negli ultimi 5-6 minuti, abbiamo subito il 3-1. Credo che non è mai stato in discussione, anche se era un'ottima squadra, la squadra che avevamo di fronte. Diciamo che voi vi siete costituiti questa estate, una squadra da torneo, nel senso che credo ne abbiate fatti, ne state facendo 4-5 insieme. Sì, abbiamo fatto questo il secondo che vinciamo, ne portiamo a termine questo il secondo, adesso iniziamo con altri due, siamo un gruppo di amici che ci siamo ritrovati, abbiamo deciso di partecipare a tutti i tornei con un'unica squadra, in modo anche da gestirci eventuali tornei in simultanea e devo dire che sono soddisfatto anche per i miei compagni, siamo tutti soddisfatti per la vittoria. Ok, allora ci puoi presentare gli altri membri? C'è il mister Iorio e il reale è il dirigente della squadra. Allora, vincente il cammino. Vincente il cammino sì, però c'è da dire che questi ragazzi non hanno bisogno di un allenatore, perché loro comunque c'è qualcuno che lo fa di mestiere, già giocano a calcetto, a calciacinque e sono un gruppo di ragazzi veramente eccezionali. Dirigente, che dice? È stata una bella partita, abbiamo vinto, abbiamo vinto pure il torneo da Progna e ora vinciamo pure questi altri due. Dove andrete le prossime volte? Ferrazzano e Limosano. Però tu hai scelto non a caso i ragazzi di Dental Tech, Dental Tech al primo trofeo alla baita, perché sono i vincenti dappertutto. Sì, da tutta parte.